Ma non è successo niente, io sono invaso da grande ottimismo, l'ambiente è sereno, ambiente intendo giocatori, dirigenti, per quanto mi riguarda, dato che rappresento la società sono molto sereno, in questi quattro giorni non è successo niente, è successo quello che succede nella vita, che non si può sempre vincere, ma sono proprio le cadute che fanno risorgere, sono proprio gli elementi avversi che aumentano gli incentivi per andare avanti, quindi in questo momento vorrei dire a tutti, soprattutto alla grande massa dei meravigliosi tifosi romanisti, siate sereni come voi, noi, state calmi, nulla è perduto.